allora ragazzi buongiorno spesso nei nostri gruppi chi ama questi ciccioni maialosi leggo quanto costa un buldo francese e dove comprarlo eccetera però una domanda e una considerazione che dovete fare è quanto costa mantenere bene un buldo francese ora vi faccio un piccolo elenco delle cose che primariamente mi vengono in mente sempre pensando che il cane non abbia problemi non abbia malattie non abbia diciamo delle cose un po più difficili da gestire quindi basicamente se il cane sta bene come stanno bene i miei ciccioni qui dallas e poldo i costi più o meno sono di quanto io spendo almeno e cerco di tenerli come dio comanda minimo parliamo di 40 euro al mese di bagni dal veterinario perché io lo porto ovviamente dal veterinario perché lo lava con un certo criterio e salviette ecco così volevi farvi notare ognuna di queste costano rotti io ne uso sei al giorno perché logicamente ogni volta che escono una per loro fa 6 io li porto fuori tre volte sono dei non solo premietti dolcini vari ognuno di questi sono circa quattro euro ce n'è dentro come vedete 34 ecco c'è quindi così a occhio e ribadisco senza pensare al cibo perché comunque anche il cibo quello che almeno compro io e i 10 chili costano 100 e passa euro ora pensateci bene molto bene perché non è quanto costa comprarlo se non quanto costa non tenerli quindi dite ditegli ditegli che bisogna curarvi mantenervi e farvi fare una vita stupenda se non fate a meno va bene ciao